Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di Uncharted Territory 3 Siamo qui con Stephanie e Vegas mentre Vegas mangia il cibo della coniglia Perché si sta mangiando le carote della coniglia e si sta mangiando È un luminante Un luminante Ok, allora siamo qui alla intersezione numero, non lo so Per affrontare l'ultimo dungeon di questa intersezione Che è quello della lana color ciano, non lo so Ah, hypercharged Con l'ora dei creeper forse Nooo Eh, sì, sì, sì Comunque io ho trovato qua nella cesta delle cose di ferro che abbiamo lasciato un tempo fa E mi sono accorto che qua ci sono due pezzi di cobblestone che differiscono a tutto il resto E allora ho provato ad aprirle e ho trovato questa cesta Non l'aprite, non l'aprite, non l'aprite che è una di quelle trappola Quindi io nel dubbio Prima spaccolero Oh, c'è delle TNT, va che genio Ma dai, apriamola Eh no, vaffanculo Ho già rotto il circuito Ho rotto il circuito, altrimenti qua esplodavamo tutti, deficiente Ma la facevi veloce, scappavi, che te frega Ah, sì, vabbè, allora L'intersezione, che tipo, ma Ah, sì Ah, sì Ah, sì Su gas, magari sapeva l'intersezione Ma proviamo Ok, magari no Ok, non c'era niente Perfetto, andiamo Dai, andiamo, andiamo Pro, io in una normatura, perché sono morto, non so se bisogna, non mi fosse fatto l'armatura, c'è un genio Allora, qua è pieno di torri Sì, sì, praticamente, prima la sono andato a leggere Oh, che cazzo, è da roba Perché c'è? Guarda qua Ah, no, è solo per la luce Che c'è? No, 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 guarda Per la prima volta in questa serie abbiamo trovato il ferro Guarda là sotto È la madonna, posso farmi l'armatura di Dio? Sì, però guarda che ci sono vicino Ci sono tanti tuoi amaricati Gast Amaricati? Amaricati? Cosa sta? Stai, è solo per la luce, che scherzo a fare? Vabbè, comunque, allora qua ci sono delle scale da seguire, se non sbaglio Eh, ma vanno sopra Guarda, guarda, qua si sale No, no Non lo so, aspetta Ah, c'è un'altra scala Qua è tutto fatto di ossidiana, tra l'altro, vorrei far notare Occhio, non attivare gli spawn Eh, sto dando un'occhiata Allora, con calma, Vegas I tuoi istinti da farmer Di Diablo No, io non ce l'ho E se ci lanciamo nell'acqua? Beh, si può provare, ma poi ti spawn No, no, è acqua E' acqua Ma però Che sei cieco, porca palla Si vede che è acqua Ehm, venite qua, per favore Perché è tutto buio Ecco, sta iniziando a spawnare Creeper Entra, entra No, no, che entra Rompi Eh, appunto Quanti cazzo sono? Tappate, tappate, tappate Porco È vero, è ossidiana È ossidiana Se ci comportiamo bene Distruggi tutto, distruggi tutto Veloce Veloce Venite No, aspetta Non fa le spawn Non fa le spawn Vicino alla cesta Ok, distruggi Ok, ok Io distruggo questo Distruggo questo No, 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 giù No, giù No, arrivano Creeper Ah, ho due cuori Ho un cuore 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 Ah Vegas è caduto Vegas è caduto Non lo so Vieni Armatura, grazie TVB No, no No Sta Sta facendo spawnare la gente No, Vegas Cosa fai? Nasconditi Chiuditi Chiuditi Sto cazzo E il bello è che avevo mezzo cuore Son caduto E non son morto Perché c'è barco Ho capito Qua non ci sono più spawner Mi sa che sono nel soffitto di spawner Attento Fan culo Io faccio tutto in ferro Fan culo Io faccio tutto in ferro Oh signore Perché non ho il legno Ragazzi Aspetta, aspetta, aspetta Arrivo Facciatemi dei blocchi di legno Verso l'acqua I blocchi di legno Non ne ho Arrivo Ci sono Come nel vuoto No, scherzavo Nel vuoto Nel senso Nel piano Oddio Ma qua è pieno di Nel vuoto Nel vuoto Nel senso Nel piano Adesso Eh sì C'era il buco Perfetto Vabbè io inizio a minare Come la talpa Ok Io ho distrutto E vabbè Vegas talpa Ora guarda Arriverà dal nulla Vegas che dice Ho trovato la lana Come Sì ma spawnerlo Dal culo Di sua mamma Un'orda 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 Oddio Vegas Stepni Chiuditi Stepni Chiuditi Stepni Chiuditi Non lo so Oddio ma quanti ne spawnano Attento 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 E vai sali 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 Vai caduta di nuovo Ti faccio la scale intanto Ma te sei chiuso adesso Ma no guarda che qua non ci sono più spawner Tranquillo Ragazzi mi venite a prendere Aspetta aspetta Vegas Allora andiamo se c'è qualcosa nelle fornaci Con il ferro Con il ferro siamo Uh ho trovato altro ferro Oddio Sono sopravvisto Il carbone Sopravvisto Vai Io ho sopravvisto Io ho sopravvisto Perfetto Allora se scendiamo le scale secondo me arriviamo dove è Vegas C'è una cesta Con della TNT Ragazzi qua c'è tanto di quel ferro che potete costruire gli edifici in ferro Bello Quanti cazzo sono Allora aspetta aspetta Cosa C'è una cosa che dobbiamo fare mi sa C'è Allora C'era una TNT E nella cesta c'era della Delle pietre rosse Eh si 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 Torci di airstone Ecco secondo me è da attivare Ah ok aspetta ora l'attivo Ora l'attivo No aspetta c'è uno lì C'è uno cattivo aiutatemi Vai ho attivato Scappa Troppo forte io Troppo forte Ok si 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 è aperto un tunnel Si è aperto un tunnel che poi dall'altra parte Aspetta aspetta ci sono dei buchi però Allora io corro e piazzo l'altra torcia Lì e poi torno indietro ok Ok Spero che non mi sparì nessuno Non c'è nessuno Scappa 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 Ok 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 ci sono ci sono ci sono Ok 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 piazzo un po' di torcia perché ho paura Vegas lo so che sembra che siamo cattivi Ti abbiamo lasciato indietro ma non è così Ma ci sono i ghz Anche qua anche Ci sono creeper Allora davanti non ci sono creeper però spavano da sopra Eh guarda sopra cosa c'è Scappa 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 Cosa giù Oddio no 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 lo sai Io Ah No che sono Corra su E cosa Oddio No Torna indietro torna indietro Stai torna indietro subitissimo Scappa Scappa tantissimo Perché non ha spostato da Dezio Vegas Ma te sei caduto Non l'hai mica fatta apposta Ok andiamo da Vegas Con il ferro avete un po' di legno però No Io no Sì Eh buttalo dall'alto Eh speri speri io porto una fornace Porto una fornace Ma perché cadi sempre Ma la fornace non serve a un cazzo Per il ferro Ma ce ne sono Abbiamo tanto di quella cobblestone qua sotto Vabbè ma ho già fatto la fornace Quindi abbiamo anche bisogno della Sto creando una base va Sto creando una base su Dove Giù Oddio mi stanno sparando Dovete venire da me Dovete venire da me Mi butto Dovete venire da me Ho creato una fossa comune Ma qua è pieno di mo Come una fossa comune Allora stiamo per morire Dove sei Dove sei Si ma dove cazzo Oddio No No va che se muoio Porco Giuda E non c'è Ecco la fossa comune Arrivo 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 Dov'è Dov'è Non c'è n'entrata Non c'è n'entrata Non c'è n'entrata Aiuto Aiuto Chiudi Ok Entrate nella mia fossa comune Ci sono ci sono Ci sono Guardate qua Ho scoperto moria E lo sto pure Tappando Entra anche tu nella fossa comune Eh proprio Ma che tre Ho scoperto io il ferro Ho scoperto io la grotta Lui ha scoperto il ferro Era nell'età della pietra Arriva Vegas Ragazzi Ho scoperto il ferro Dammi il legno Dammi il feto Beh Conoscendoti Quanti ne hai di legno Abbastanza per sfamare l'universo Ho dei leggings Usa lo tipo carbone Tieni Vegas Ho dei leggings Te che hai il culo grosso Così fai uccidere la gente Perché Oh datemi un piccone in ferro Tieni Perché le butti allora Perché butti la roba Perché me la butti la gunpowder Ancora Ti me la butti addosso Si vede nel video Ma che cazzo state dicendo Ma che drogate A volte Ma vi state calmi Eh prendetela voi C'ho già due stack di ferro Prendetela voi Io sono già pieno Non più spazio Prendete Cosa? Tu riraccoglie le barragge Cazzo Ma te brini coglionito Tu fai i buchi in alto Ti gioco un infarto Perché ha laggato Si ma tu fai le caverne Con i buchi E poi pretendi Che non entra la gente La lana sarà dentro Una di quelle colonne Bisogna uscire E tornare in alto Siamo usciti Siamo usciti Ecco Si vede che siamo usciti Qualcuno ha fatto Un bicchiere Per prendere l'acqua Un bicchiere Si bicchiere di ferro Un bicchiere Un bicchiere E' un bicchiere Si 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 Se mi vuole sbocciare Oh mio dio Vai là Vai là C'è un dungeon C'è un dungeon Ragazzi Oddio C'è la gente super caricata Oddio Guarda come corre Ragazzi Dove sei Stai dove sei Ho paura Ho paurissima Scappa Scappa Sali Sali Io sono rimasto nel buco Mi hanno fatto Perché Mi hanno fatto Scuso tutto Ci sono Ci sono Aspettatemi Che cazzo è successo Ok Ho levato tutti gli spawner No ce n'è uno qua Che cazzo hai levato tutti gli spawner Ce n'erano l'ultimo Ne erano sette La legna La legna è importante La legna è importante Spendi la legna Qua c'è roba C'è del cibo C'è della pelle Vabbè raccogliete tutto Si si C'è del legno Tanto legno Qua in questa cesta L'ho uccido Ma dividetelo Dividetelo Ho 48 pezzi di legno Tenete la metà Ok Bello bello Dai Siamo messi bene Qua c'è anche dell'oro Forse L'oro non si aveva per il monumento Aspetta ne prendo un po' Sicuro Penso di sì Bisogna fare i tre blocchi Come tutte le serie No in tutte le serie Tutte le serie Si in tutte Tutte no Si Ma saliamo Facciamo tipo una scat Oddio Oddio la gente è super caricata Vedo la gente morta è caricata C'è uno spawner là sopra C'è uno spawner là sopra Non andiamo là per favore Ho paura Cosa di TNT Dove siete? Ecco Perché l'hai cliccato Ok dai Si ha rotto lo spawner Ok Buono 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 Bisogna andare Sulle torri Mi sa